max partiamo dal muro una gran partita di squadra e tua in questo fondamentale avevate studiato bene la partita se il servizio e la battuta va, il muro è molto più facile quindi per quello bravi noi siamo entrati con l'aggressività di battere bene l'abbiamo fatto abbiamo visto un bel gesto nei confronti di Salsi e Ouelo che sono entrati, li hai abbracciati gli hai detto di godersi il momento dell'esordio ma io sono contento per loro due quando entrano forse Scala non sapevano che lui alzava la palla di Samuel però anche Salsi ha alzato una palla per Erwin che ha tirato tre metri sulla riga per loro, per la crescita di loro due sono contento spettacolare hanno detto 11.000 non lo so preciso ma qua è facile giocare qua secondo me perché l'energia c'è ma anche quella non so quando siamo qua l'ultima volta che ero qua forse USA Italia giocavamo alle 11.00 alla mattina c'era il palazzo pieno per noi tutti i tifosi i polacchi sono forse migliori Italia poi Polonia non ci sono ma qui mi 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 Grazie a tutti